Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV in apertura alla cronaca. Un arresto e sei denunce per detenzioni e fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Cortona. È stato grazie al fiuto di Tami, pastore belga del nucleo cinofili di Firenze, che i carabinieri hanno trovato e sequestrato circa 224 grammi di droga, hashish, marijuana e cocaina. A Cortona così è finito in manette un uomo ed altre sei persone sono state denunciate sempre per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tutte residenti tra Arezzo Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana. Si tratta del bilancio di una complessa attività investigativa dei militari del nucleo operativo della compagnia cortonese. Secondo gli investigatori erano dediti al traffico illecito di stupefacenti. I carabinieri infatti hanno accertato dal marzo al giugno 2024 numerose cessioni di droga da assuntori residenti in Val di Chiana. A Camucia sempre i militari hanno eseguito un ordine di carcerazione a seguito di un mandato di arresto europeo per traffico illecito di sostanze stupefacenti a carico di un 35enne residente alla fratta di Cortona. Un altro 35enne è stato poi denunciato a Terontora al termine di un'attività di indagine. Lo scorso 16 giugno l'uomo avrebbe messo a segno un primo colpo in una casa vacanze da dove aveva portato via monedino oro, orologi, tablet e denaro contante, un bottino di circa 7.000 euro. Poche ore dopo aveva tentato l'irruzione in un agriturismo ma era stato messo in fuga dal proprietario. Grazie alle immagini di video sorveglianze i militari sono riusciti a risalire all'autore che adesso dovrà rispondere dei reati di furto e tentativo di furto. Proseguono anche le indagini alla ricerca dei complici. Un incidente stradale questa mattina lungo il tratto a retino dell'autostrada del Sole al chilometro 361 in direzione nord. Il conducente di 22 anni è stato trasportato in codice 2 all'ospedale della Gruccia. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi di legge. E adesso la cronaca giudiziaria. È stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Il 38enne accusato di molestie sessuali ai danni di 7 giovanissime. L'uomo infatti avvicinava le ragazzine a bordo di un autobus che da Castiglion Fibocchi raggiungeva la città di Arezzo tutti i adolescenti che al mattino si recavano a scuola. Il giudice per l'udienza per il preliminare Stefano Cascone ha riconosciuto l'attenuante della lieve entità della molestia ma la condanna è stata comunque una stangata. La vicenda risale ai mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024. L'uomo dovrà anche rifondere le spese legali 1800 euro per ogni ragazza. E adesso voltiamo pagina questa mattina alla borsa merci la giornata dell'economia nel corso della quale sono stati presentati i principali indicatori economici del territorio. Vediamo il servizio. Arezzo è la sedicesima provincia a livello nazionale per come dato di valore assoluto sulle esportazioni. Quindi capite che davvero siamo ai vertici di questa economia importantissima che è quella appunto delle esportazioni. Certo è che i dati che purtroppo registriamo sono dati che non ci confortano perché ovviamente ci confrontiamo ancora con un costo del denaro molto alto. La capacità delle famiglie è assolutamente ridotta. Se da un lato vola l'export a retino dall'altro pesano inflazione e contesto internazionale. E' così ancora una volta un bilancio tra luci e ombre quello che emerge nella giornata dell'economia organizzata dalla Camera di Commercio di Arezzo Siena alla borsa merci nel corso della quale sono stati presentati i principali indicatori economici del territorio. Emerge sicuramente la fortissima presenza di un distretto su Arezzo in particolare che è orafo che continua a dare dopo quelli del 2023 anche nel 2024 grandissimi segnali di positività. Ovviamente abbiamo addirittura nel settore del gioiello un aumento delle esportazioni dei primi tre mesi di oltre il 130% e ovviamente poi permettono ovviamente di far posizionare le nostre esportazioni globali del primo trimestre di un aumento di oltre il 30%. Quindi un dato assolutamente importante. L'export continua dunque a trainare l'economia retina e il valore aggiunto. Per quello che riguarda i settori che influenzano l'andamento del valore aggiunto sono ovviamente i servizi che contribuiscono a più ovviamente della metà del nostro valore aggiunto e sono in area positiva intorno al 2%. L'altro settore importante che ha contribuito nel 2023 al valore aggiunto positivo è il settore delle costruzioni influenzato dagli ecobonus un più 10 e 5% e ovviamente anche il settore dell'agricoltura ha contribuito significativamente con un più 13%. Il lieve flessione e la manifattura un meno 2%. Cresce il tasso di occupazione al 71% quindi di 4 punti percentuali ma ancora ci sono luce ed ombre come per esempio il tasso di inattività femminile che è molto alto al 32%. I giovani hanno un tasso di occupazione del 52%. Per quello che riguarda la demografia imperitoriale confermiamo appunto il dato delle 35.000 imprese iscritte e 43.000 localizzazioni con 117.000 addetti. C'è da registrare ecco una crescita costante dell'imprenditoria straniera in particolar modo dei titolari di cariche straniere che sono sempre molto in aumento e arrivano a sfiorare addirittura il 7% della base imprenditoriale. Presentato questa mattina l'aggiornamento del programma territoriale degli impianti finalizzato a programmare il corretto insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni radiobase. Sono 8 i nuovi impianti che dovrebbero sorgere secondo il piano. Intanto partiamo da qui. Sì nel nuovo piano a fronte di una richiesta che erano addirittura intorno ai 70 ne abbiamo ottimizzato la possibilità di andare in parte in quelli già esistenti quindi 61 saranno quelli già esistenti in modalità di co-siting e sono soltanto 8 quelli nuovi nel territorio che abbiamo inserito nel piano. Ecco ora ovviamente ci sarà un processo prima dell'approvazione definitiva. Sì certo, questa è la redazione del piano a livello cartaceo. In questo momento il piano è alla valutazione ambientale strategica quindi deve essere rilasciata la VAS dall'ufficio ambiente quindi una valutazione di ARPAT e l'ufficio ambiente. Dopodiché ci sarà il processo partecipativo con la cittadinanza che è molto importante su un tema così attuale e scostante in questo momento e poi il piano come tutti i piani urbanistici andrà in Consiglio Comunale. Ecco su Via Anconetana però c'è una notizia. Sì su Via Anconetana c'è una notizia positiva per il Comune perché avevamo fatto ricorso al Consiglio di Stato e il ricorso è stato vinto dal Comune di Arezzo. Si spera che questo apra un nuovo spiraglio che dà al Comune la possibilità anche dopo di contraddire laddove è stato scelto un sito che non va bene con i piani urbanistici. Si mette un punto mi pare di capire sotto un profilo più che altro proprio operativo da parte del Comune di Arezzo. Cioè ok che sono ovviamente impianti di pubblica utilità ma questo non può passare sopra la testa del Comune ma soprattutto dei cittadini. Sì perché appunto c'è la normativa nazionale che gli permette di fare una richiesta in deroga a quelli che sono appunto i piani comunali. Però è vero anche che l'indifferibilità che è quello che loro sostengono quando ci vengono a chiedere un punto che è esterno da quelli dei piani deve essere effettiva. Cioè per esempio Bianconetana effettivamente c'era già una installazione molto vicina in cui loro si potevano mettere in appunto co-siting cioè attaccare allo stesso impianto e quindi il Comune lì ha vinto per questo. Il 26 giugno è la giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga e l'Asla Toscana Sud-Est ha diffuso i dati proprio in occasione di questa giornata. Dunque il servizio che si occupa di dipendenze nella provincia di Arezzo ha visto un progressivo ritorno ai volumi di utenza trattata nella 2019. Per quanto riguarda la zona dell'Aretino si rileva una leggera flessione di persone prese in carico per dipendenze da sostanze. Si segnala un incremento dei giovani che anticipano comportamenti e disturbi delle persone adulte in tutti i territori dell'azienda, sottolinea Marco Beccattini, direttore della medicina delle farmacotossico-dipendenze. È fondamentale, prosegue la costruzione di un percorso che metta al centro la persona e la famiglia fragile. Si ricorda infine che i servizi sono gratuiti ed anonimi. Ed ancora sanità, i medici di medicina generale e i farmacisti partecipano alla campagna di screening gratuito contro l'epatite C promossa dalla regione toscana e a partire da questa settimana inizieranno ad offrire il test rapido in ambulatorio e farmacie. Una novità annunciata con l'apertura della seconda fase della campagna di screening che coinvolge le persone tra 35 e 55 anni, fascia d'età individuata dal Ministero della Salute che d'ora in poi potranno rivolgersi anche al proprio medico o farmacista per ricevere informazioni ed effettuare il test rapido. E un importante ed innovativo progetto invece arriva dall'associazione Latte di Mamma per poter essere ancora più vicina alle nuove famiglie. Un servizio di prima assistenza su WhatsApp per le neomamme a retine. Si tratta di un progetto dell'associazione Latte di Mamma, mamme alla pari che operano come volontarie nel territorio a retino per aiutare le neomamme e le nuove famiglie. L'arrivo di un nuovo bambino è infatti un momento di grande emozione ma può portare ai genitori e soprattutto alle madri anche qualche fragilità e debolezza, fatiche che non riguardano solo l'allattamento ma possono essere di qualsiasi natura. Presto sarà così attivo il servizio WhatsApp che permetterà alle madri di avere un consiglio, un confronto e un momento di dialogo sempre a portata di mano. Basterà infatti mandare un messaggio e attendere dall'altra parte la risposta di una mamma alla pari, che grazie alla sua esperienza e alla formazione ricevuta dall'Asla Toscana Sudesta potrà dare consigli ponderati e affidabili e guidare eventualmente verso il professionista o il servizio sanitario più adeguato. Tutto questo è stato reso possibile grazie a un'azienda retina pioniera nella trasformazione digitali in Italia che ha donato all'Associazione uno smartphone per avviare questo servizio. La consegna verrà ai primi di luglio e permetterà all'Associazione di prendere confidenza col servizio e perfezionarne l'avvio. Arriva una nuova linea mare che a partire da sabato 29 giugni per tutta l'estate collegherà Arezzo a Rimini e Riccione. Da Arezzo verso la riviera Romagnola, Rimini e Riccione, con il mare Bus, la prima corsa si svolgerà sabato 29 giugno e proseguirà per tutta l'estate sino al mese di settembre. È un servizio pensato per migliorare l'accessibilità a una delle mete turistiche più amate, nato dalla collaborazione tra Autolinee Toscane e TMSPA. La linea è operata con autobus Gran Turismo, dotati di sedili ergonomici e spaziosi, ideali dunque per i lunghi viaggi. Lungo il percorso sono previste anche alcune fermate strategiche per consentire all'imbarco di passeggiari non residenti ad Arezzo, ma che abitano in aree urbane lungo il percorso. Fiorell'occhiello dell'iniziativa ha la possibilità di muoversi nel bacino urbano di Rimini, raggiungendo anche le spiagge con i bassa Start Romagna, presentandosi nella terra dei Malatesta è in possesso del bicchietto utile a fruire dei mezzi grazie ad un innovativo accordo di collaborazione tra aziende di trasporto toscane e romagnole. Inoltre è proposto anche un collegamento quotidiano diretto e veloce per Acquafan di Riccione oppure per i set acquatici del parco Oltremare. Quotidianamente la partenza è prevista alle 7 da Arezzo dal terminal di fronte alla stazione ferroviaria. La corsa di ritorno parterà invece dall'Acquafan d'Oltremare alle 18 e alle 18.25 da Rimini con arrivo ad Arezzo alle 20.55, obbligatoria infine la prenotazione. Anche quest'anno l'associazione ERA ha promosso in collaborazione con la scuderia Panna e Crescere e con il contributo del Comune di Arezzo, Estra e Coingas il progetto Esserci. Laboratori creativi, artistici e manuali, giochi, sport adattati in grado di privilegiare il senso di squadra, interventi di esperti sulle tematiche legate alla disabilità. Esserci 2024 torna anche quest'anno con il coinvolgimento di 15 nuclei familiari. Abbiamo più un 20% di adesioni, quindi abbiamo 15 nuclei familiari con 30 soggetti che sono per lo più il 70% ragazzi con disabilità che collaboreranno in un progetto molto ambizioso la costruzione di un librettino in linguaggio aumentativo su un tema molto chiaro che è quello del cambiamento climatico proposto dall'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Una grande risposta anche perché quest'anno molti centri estivi sono in estima difficoltà ad accogliere ragazzi con disabilità non per non volerli accogliere ma perché c'è una carenza di educatori e quindi questo rappresenta per le famiglie davvero un grosso problema. Quindi noi diamo una risposta essendo strutturati solo appunto con educatori che nel tempo hanno acquisito competenze per la disabilità di dare una risposta proprio effettiva a questo bisogno. Praticamente nel maneggio della scuderia PAN insieme a tutte le attività della scuderia c'è sempre l'integrazione con bambini e ragazzi con disabilità sia per l'autostima per la gestione del cavallo aiuta tanto sia che salgono che non salgono in sella perché magari alcuni sono tranquillissimi proprio hanno la voglia di montare a cavallo altri invece gli fa piacere solo stare lì a cudirli farli mangiare l'erba a carezzarli però non se la sentono di montare e quello non è obbligatorio l'importante è che loro stiano bene e che si si sentano bene, si socializzano con gli altri ragazzi perché anche questo vuol dire tanto. Diciamo che è molto importante perché si dà l'opportunità di un momento di svago e nel periodo estivo quando magari altri centri proprio specifici con ragazzi con disabilità magari possono essere chiusi c'è questo momento in cui loro possono avere delle vacanze e fare attività come tutti gli altri bambini dei campi estivi e infatti una cosa molto importante le inclusioni che vengono fatti insieme a tutti gli altri anche se loro hanno magari operatori specifici che li seguono però il gruppo è sempre lo stesso, il luogo uguale. L'attrice statunitense Ginet Paltro in Italia da alcuni giorni si è fermata anche a Cortona in centro storico e ha degustato le prelibatezze di un ristorante cortonese. L'attrice vincitrice di un premio Oscar e di un Golden Globe nel 1999 ci ha deliziato con la sua presenza. Persona gentilissime solare è stato un piacere incontrarti, recita il post che i titolari del locale della Loggetta hanno pubblicato sulla pagina del ristorante accompagnato dalla foto ricordo di copertina. In città d'Arezzo invece è pronto per tornare al Mango Music Fest che quest'anno festeggia il ventesimo compleanno in grande stile. Dal 9 al 13 luglio sempre ad ingresso gratuito nella cornice del prato di Arezzo. La line-up completa del festival comprende più di 30 artisti che si alterneranno sul palco tra i più importanti della scena attuale. E adesso la pagina dello sport. La scuola basket Arezzo comunica che Stefano Liberto sarà ancora l'assistente allenatore della prima squadra che prenderà parte al campionato di Serie B 2024-2025. Stefano è un'istituzione nella SBA e il suo ruolo oltre al lavoro sul parquet accanto al nuovo coach Alessio Fioravanti lo vede da sempre come primo riferimento per l'inserimento dei nuovi giocatori nel gruppo ed una spalla fondamentale per la società anche nel momento della costruzione della squadra. L'Arezzo Calcio invece saluta Luca Castiglia, calciatore di 35 anni, 46 presenze ed 8 gol in maglia Maranto, al quale era stato proposto un contratto biennale nel ruolo di collaboratore tecnico ma ha fatto scelte diverse e non farà parte della Rosa che comincerà la nuova stagione e neanche Cristiano Maria Sebastiani. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci. Grazie.